Allora le Matt Bella a tutti Partigiani della seconda guerra mondiale Lode a loro Perché queste introduzioni Bella a tutti ragazzi Sono un Matt Giosei Come al solito senza Ascot Perché è un frocio anale No purtroppo sapete alla cagarella Soffre di malinconia estesa Quindi no mi dispiace Vai a casa a studiare fisica perché domani Ha la verifica E essendo lui uno sfigato Perché ha 4 in fisica No scherzo ti vogliamo bene Ascot E comunque Ragazzi sono tornato con voi oggi con un bellissimo video Un 59.3 di cui voi vedrete Solo Penso 54 kill Credo e 0 morti perché Grazie al mio amico TheKingdomOn Che ringraziamo tantissimo ancora Passate dal suo canale che lascerò in descrizione E' riuscito a Registrarmi ancora La partita in HD Mi ha raccontato che le prime 3 morti erano abbastanza lenti come gameplay Quindi Vi lascio solo Solamente questi 6 minuti In compagnia di me Che sarà un bravissimo commentatore Per aiutarvi a crescere Nella parola di Gesù Cristo Ok Bando alle ciance E ciancio alle bande Come disse il nostro caro amico Verax E Oggi volevo parlare Volevo un po' Introdurre No Fare un po' Un paradosso Cioè ragazzi Immaginate Code nella vita reale Cioè Allora Avevo 3 punti salienti Il primo Immaginatevi Voi state camminando Per la vostra Per andare a messa La mattina di Pasqua Anche se si va la sera a Pasqua No è a Natale o la sera No è a Natale Comunque State camminando tranquillamente E a un certo punto Sentite dei colpi Che vi penetrano nel vostro Diretano Vedete tutto rosso Tutte cazze rosse Sentite il coro che fa E a un certo punto Tutto ad un tratto Puff Dopo 5 secondi Ritornate Come se Goku Vi avesse Dato i Fagioli di Balzac 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 Che cazzo E tutto ad un tratto Puff Ritornate nella vostra Felicità Senza alcun danno permanente Io ho detto Sarebbe davvero Interessante Oppure Immaginatevi Il nostro caro amico Lag Cioè voi state entrando Nel vostro bagno Perché avete Vomito E dissenteria State vomitando Sul vostro cesso E a un certo punto Lasciate una striccia Di vomito Misto a merda Su tutto il pavimento Perché vi ritrovate A ritornare indietro Nel tempo Come se fosse stato Gesù Cristo nostro signore A fare misericordia Su di voi E con voi rimanga sempre No comunque Davvero immaginatevi Se vi ritornate indietro Lasciate quella Vostra bella striccia Di vomito Sul pavimento Che vostra madre Vi osterra dietro Più di Più 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 di Più di Beppe che Bergomi Quando abbiamo vinto Il mondiale Nel 2006 E comunque ragazzi Oppure immaginatevi Ancora di più Questo penso sia Il migliore Il migliore di tutti Tipo Siete qua Tranquillamente Prendete una vostra Ricompensa d'assalto Tipo Lodstar E tutto Non tratto Siete seduti Sul vostro divano Tranquillamente E puff Vi Con un solo click Sul vostro ipad Vi Teletrasportate direttamente Su un bombardiere Che distrugge Fa distruzione E quindi ragazzi No davvero Sarebbe davvero Una Una buonissima idea Cioè io Mi stavo chiedendo In questi giorni Di riflessione Personale E io Sì ragazzi Vi chiederete Come mai io penso A queste cose Mentre Mentre sto tranquillo Non lo so neanche io Sinceramente E comunque ragazzi Volevo anche parlare Del Lodstar In questo In questo commentary Perché ragazzi Lodstar Una ricompensa Che è troppo forte Davvero Io Io Forse anche meglio Del Reaper Di Mv3 Perché Adesso mi sono riguardato Un paio di video Di Mv3 E mi ricordo che Ho visto che il Reaper Era davvero lento A emanare colpi Mentre Lodstar è velocissimo E poi sono potentissimi Davvero Cioè io A parte Vabbè Se vi ritrovate In mappe Chiuse Ad esempio Come Drone Che è pieno Di caseifici Dove fanno il formaggio Che è quello che Si ritrova Sotto i piedi No che schifo ragazzi Lasciamo da parte Questo Questa bruttissima immagine E comunque È davvero Potentissimo Vi fa 10-15 kill Ogni Ogni volta che lo usate Se lo usate bene Davvero È fortissimo Perché Molto più Forse anche Dallo sciame Per Cioè no Forse Dipende Dipende poi Da quanti hanno Assassin Assassin No cos'è Invisibile Perché Ad esempio Io me lo metto sempre su E quindi lo sciame Non mi fa mai niente Perché davvero L'ho trovato Un perk davvero fondamentale Assieme a fantasma Si mi chiamerete Ghost Come mv2 Oppure ghost Come il nuovo Call of duty Che starà per uscire Penso a dicembre Non lo so Sinceramente Ho visto solamente il video Di the kingdom on Ragazzi Passate a guardare il suo canale Perché davvero ho fatto Un commentary davvero specifico Pur avendo pochissime 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 informazioni Perché Non so se solo sul sito Di call of duty Comunque c'è un trailer Andate a guardarlo Perché è davvero interessante Farà luce su piccole Piccole informazioni Con quale che poche Che sia Che abbiamo Vi darà luce Vi darà un ampio spazio Di visione Io non so proprio Non ho ben capito Se sarà solo per le nuove piattaforme In tal caso Non riuscirei proprio Comprarlo Perché Dovrò aspettare molto Prima che Mia madre mi permetta Di prendere la PS4 Perché Sì Siamo una famiglia povera Quindi Fate tante visualizzazioni Così almeno Prendo la partnership E posso spendere soldi Nella nuova connessione E nella nuova Nella nuova Nella nuova playstation No ragazzi Sto scherzando Comunque davvero Sono contento Perché Perché mi piace Youtube Anche se non abbiamo Tante visualizzazioni Sono davvero molto contento Sono contento Sono molto contento Bene ragazzi Il video è ormai terminato Quindi Vi invito a lasciare un bel mi piace E Ricordatevi che I mascot rimarranno sempre Nei vostri cuori Come Gesù Cristo Nostro Signore Bella